Sono Stefania Gallier, sono una trainer dell'International School of Self Awareness, studio le danze sacre e i movimenti da oltre 25 anni. Sono Emilio Vitali, trainer dell'International School of Self Awareness e sono qui con voi per guidarvi attraverso le tecniche della respirazione consapevole e attraverso la pratica della meditazione. Sono Carolina Carrara, trainer dell'International School of Self Awareness. Siamo molto felici di iniziare con voi questo percorso che sarà un percorso molto intenso in cui faremo un passo in dentro. Ci occuperemo del corpo, ci occuperemo delle emozioni, ci occuperemo anche dei nostri pensieri e alla fine di tutto il nostro intero essere. Lavorare per entrare nel nostro centro di gravità e fare in modo che tutto diventi più armonico per migliorare la qualità della vita oltre che propria anche quella degli altri. Lavorare per entrare nel nostro centro di gravità e faremo anche dei nostri pensieri.